L'arte come mezzo per il recupero e la riabilitazione sociale delle persone in carcere. Il progetto ha coinvolto i detenuti della casa circondariale di Locri, affinché il lavoro possa essere un pungolo per uscire dalla malavita. L'iniziativa è stata finanziata dal comune di Gioiosa Ionica, in collaborazione con la consulta delle associazioni, mentre le opere realizzate dai detenuti sono state esposte nel cortile di Palazzo Meduri. Il carcere lo intendo come un luogo dove si diano le persone delle opportunità, opportunità di riscatto e ben vengono queste iniziative, il lavoro, lo studio, l'arte, tutto quello è grazie alla partecipazione appunto della società civile. Solo così il carcere può fare sicurezza sociale, può restituire delle persone diverse che hanno capito di aver sbagliato e intraprendano la strada della legalità. Quello che è stato fatto al Tribunale di Locri è stato veramente qualcosa di eccezionale, ritengo, non per le opere che sono state eseguite, i risultati concreti e materiali, per l'entusiasmo che è stato suscitato in tutto il personale dipendente dell'ufficio. Ilario Balì, per la CINUS24. Ilario Balì, per la CINUS24.